Musica Oggi a Sorsi di Benessere vi propongo una sorta di frullato, ma che in realtà è una crema ghiacciata quasi una granita Perché utilizziamo tutti i vegetali, frutta e verdura che è stata tagliata a pezzettini e poi congelata Come vedete questa è tutta frutta congelata Andiamo a frullarla e la potete usare sia come dessert per esempio Ma anche per accompagnare per esempio durante un aperitivo dei pezzettini di formaggio, dei salumi o dei carpacci di pesce In questo caso noi andiamo a mettere degli alimenti che sono altamente drenanti e depuranti come l'ananas e il cetriolo Quindi mettiamo pezzettini di ananas, cetriolo e poi la pera Anche la pera è un'alleata del nostro benessere perché è proprio ricca di vitamine, è ricca di minerali e aiuta anche a depurare e a drenare E quindi proprio noi abbiamo una granita molto piacevole al gusto ma al tempo stesso anche benefica Che va anche a rimineralizzare l'organismo in questo periodo molto caldo in cui ne abbiamo particolarmente bisogno Tra l'altro la pera è anche particolarmente saziante quindi noi andiamo anche così a dare insomma dei nutrienti all'organismo E al tempo stesso andiamo a placare quel senso di fame Ecco qui ovviamente è una sorta di granita di frutta solamente Può essere necessario spegnere, girare un pochino e riattivare il frullatore perché appunto la frutta è tutta congelata Eccola qui È una granita ghiacciata molto gustosa Ha un profumo, voi non potete sentirlo da qui ma vi assicuro che è super fresca e super golosa E potete anche servirla per esempio appunto in dei piccoli bicchierini anche così Accanto magari a dei pezzettini di formaggio, della mozzarella o dei carpacci di pesce, dei gamberoni Si sposa bene ed è molto fresco O può essere anche un diciamo un finale di dessert alla fine di un pasto Eccola qua